e ti saluto con la pace del signore e anche oggi venerdì 5 maggio 2023 ti saluto con un abbraccio virtuale caloroso che dio ti benedica immensamente e che la pace di cristo ti accompagna anche oggi con la sua guida con il suo amore con tutta la sua essenza perché dio è buono e ti ama di un amore immenso non te lo dimenticare mai specialmente nei momenti difficili ricordati che dio ti ama ti vuole bene e non si è dimenticato di te non ha girato lo sguardo verso qualche altro posto non sta pensando ai suoi hobby alle sue cose da fare e non è neanche confuso perché debba badare a tutto il mondo quando sono 7 miliardi di persone non lo so non è confuso perché dio è dio e si sa prendere cura di ognuno indistintamente allo stesso tempo altrimenti che dio sarebbe quindi non te lo dimenticare dio ti guarda sei sotto il suo sguardo stai sereno non temere detto ciò vogliamo ascoltare la parola di dio il consiglio che viene dalla parola del signore che questa mattina dice proprio così i morti furono giudicati ciascuno secondo le sue opere le testo tratto dal libro dell'apocalisse capitolo 20 versetto 13 ed ancora non ci si può beffare di dio perché quello che l'uomo avrà seminato quello pure mieterà testo tratto dalla lettera ai galati capitolo 6 il versetto 7 il titolo di questa meditazione biblica è questo il quadro molto tempo fa un ricco signore stava visitando una galleria d'arte quando la sua attenzione fu attirata da un dipinto che raffigurava una donna povera circondata dai suoi bambini e con uno sguardo supplichevole la donna tendeva la mano a un uomo dallo sguardo duro si capiva benissimo che il suo cuore era insensibile alla miseria di quella donna e dei suoi poveri bambini il visitatore restò come pietrificato gli tornò in mente un episodio di alcuni anni prima e non poté fare a meno di riconoscere se stesso nello sguardo duro e indifferente dell'uomo del dipinto le lacrime di una sua inquilina povera che lui aveva sfrattato perché non poteva pagargli l'affitto lo rimproveravano e lo turbavano era stato indifferente alla sua povertà e l'aveva messa sulla strada con i suoi figli guardò il nome dell'artista e fu ancora più impressionato non c'era alcun dubbio si trattava proprio di lui il dipinto era firmato da uno dei figli di quella donna diventato nel frattempo un celebre pittore ora l'uomo ricco si trovava tu per tu con le proprie malvagie azioni la vista di quel quadro gli era insopportabile se fosse stato possibile l'avrebbe distrutto e verrà il giorno in cui anche tu se non avrai creduto al signore gesù dovrai rivedere la tua vita come in un film ma oggi le pagine scure della tua esistenza possono ancora essere cancellate per mezzo della fede in gesù cristo e per mezzo della confessione a dio di tutte le tue colpe se rifiuti ora di ricevere il perdono di dio e la sua grazia fondate sul sacrificio del figlio ti troverai un giorno davanti al tribunale di dio a confronto con la tua colpevolezza senza più alcuna speranza di perdono e allora sarà troppo tardi riflettiamo su questo messaggio perché io credo che il signore stia parlando a qualcuno in un modo particolare riflettiamo su queste parole e vogliamo concludere questa meditazione con una preghiera io me lo sono segnato perché altrimenti lo dimentico hanno chiesto di pregare per loro monica e donato e una coppia che si trovano a rio de cianero io li ho conosciuti di presenza perché siamo stati un periodo insieme nella chiesa di padova nella chiesa padova e chiedono preghiera e come loro chiedono preghiera anche rosanna cocco noi non sappiamo quale siano i loro bisogni ma vogliamo presentare queste persone davanti al trono della grazia perché dio li conosce e sa come provvedere quindi ti voglio invitare a chiudere i tuoi occhi e a pregare insieme a me il padre nel nome di gesù a me signore padre nostro e dio nostro padre del cielo e creatore di tutto l'universo noi ti ringraziamo ti ringraziamo vent'anzitutto per il messaggio che ci è dato questa mattina perché un messaggio forte forse sicuramente però è un messaggio anche di amore perché tu non parleresti mai in questi termini se non sia per il tuo grande e immenso amore quindi ti ringraziamo e ti preghiamo che tu possa aiutarci a vivere questo giorno e i giorni a venire con questa con questa sensibilità nel nostro cuore di stare attenti alla tua parola e a quello che dobbiamo rispondere nella nostra vita verso di te poi vogliamo pregare per queste richieste per perdonata perdonato scusa signore tu lo conosci questa coppia vogliamo pregarti per rosanna vogliamo chiederti padre che tu possa rispondere al desiderio del loro cuore noi non sappiamo quale sia ma ti preghiamo che nel nome di gesù tu possa benedirli tu possa aiutarli tu possa provvedere per loro quello di cui hanno bisogno che tu possa mettere una mano sulla loro vita e intervenire signore ti preghiamo con tutto il nostro cuore anche per noi stessi ti preghiamo di benedirci e di accompagnarci anche nell'arco di questa giornata te lo chiediamo tutti insieme nel nome di gesù amen amen dio ci benedica insieme pace di gesù benedica insieme